Ehi, salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi siamo qui per andare in miniera a scavare Allora, io ho già scavato una fosse non molto profonda, guardate Arriva solo fino a qui quindi possiamo stare tranquilli e oggi scaveremo insieme In questo video non so come chiamarlo ma, ok, come vedete abbiamo già trovato del carbone Ok Che ci serve per fare le nostre torche che non abbiamo portato Ok, allora, vai, prendiamo qui, facciamo così E iniziamo a metterci qualche bella torcia qui, ok Vai, iniziamo, continuiamo a scavare Pam Ok Qui ragazzi non so come si fanno vedere le coordinate quindi Vabbè, non importa Ok Di carbone ce ne è abbastanza credo, sì Ok Vai, continuiamo a scavare Tanto di spazio nell'inventario ce l'abbiamo Ok Poi anche ci serve molta ma molta cobblestone quindi Continuiamo anche serenamente Ok Vai Perfetto Teniamo solo un attimo qui e poi Ritorniamo Di lì su Ok Tanto Di piccoli ce ne è Che in Di pietra finiscono facilmente Vabbè Non importa Ma continuiamo serenamente Ok 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 allora Allora ritorniamo Ritorniamo su Ok Vai vai Ok vai Continuiamo a scavare Facciamo con questo Che è già bello consumato Bene Altro carbone Buono C'è caso che di carbone in questo video C'è Ce ne avremo tantissimo alla fine Comunque questa serie non so Allora Questi episodi si divideranno in Tre parti o due Perché Dobbiamo Voglio Proprio Prendere tanto Tanti minerali Perché Ci servono Ci servono ma tantissimo Quindi ragazzi Da Come avete visto Ne prenderemo Un bel po' Ok Dove si è costruita la miniera Ragazzi a me Credo qui sotto Mi sono messo Perché ragazzi Io non Non metto tutte e due Le cuffie Perché Se no Mi divento sordo E poi Non capisco come sto parlando Quindi Non metto tutte e due Le cuffie Credo che la miniera Si è Costruita qui sotto Sì Sì Una bella miniera Ok Vai Perfetto Eh madonna Ragazzi Quanta Quanta roba Troveremo Allora Non mi sembra tantissimo Perché C'è Poca roba Sicuramente Qui iniziamo a chiudere E torniamo qui Allora Comunque ragazzi Secondo me Dovrebbero Cambiare Suono di quando Si costruiscono Le caverne Tipo Mettere un po' Meno inquietanti Tipo Magari Un Un suono Magari Di un Quando tipo Prendi i livelli Tipo così Sarebbe Meno Farebbe diminuire La paura Di quelli che Vogliono andare In caverna Cioè Io non ho paura Ma magari Per altri Che Intimorisce Magari Cambiare un po' Il suono Vediamo Cosa troviamo qui Beh ragazzi Quindi Ok Rame A noi Non ci interessa Ma A noi Non ci fa Mai male Prendi i livelli Prendi i livelli Prendi i livelli Prendi i livelli Sarebbe Ok Ferro Perfetto Perfetto Madonna Quanto ferro Ragazzi qui Forse ci hanno preso Troppo letteralmente Io dicevo Ci serve tanto Ma tanto Ma tanto Ferro E Ma No be' raga Ma siamo diventati Troppo Ma No raga Ma quanto Quanto ferro No raga Qui impazzisco Ma raga se ne troviamo altro Qui vicino Io Raga Impazzisco male Non so se Si può dire Impazzisco male Ma Lo inventiamo noi qui Vediamo se c'è altro No Ma quanto Ne abbiamo Troppo Ragazzi Che coincidenza Mentre Si è rotto il piccone Si è installato Batman Arkham Knight Vabbè Tanto Le coincidenze Assurde Non mancano Non so se Non c'è nightmare Nessuno Ok, mi è venuto anche a me adesso c'è un infarto veramente, madonna, anche per me, per favore, a Microsoft oppure Mojang, potete diminuire oppure cambiare il suono delle miniere, per favore, ok, mi vengono anche a me infarti, ferro, vai, l'ho notato dopo tre anni che ho ferro, ma vabbè, no, raga, anche adesso, pieno di ferro, dai, non era pieno, ma almeno era qualcosa, ferro? No, pietra normale, poi dopo torniamo indietro e cerchiamo altro ferro. Grazie a tutti. Tanto ho picchiato per la skin di Steve perché ho sbagliato. Allora... Perché, ragazzi, dico, non lo so, ma si era baggato, tipo, e mi ha dato questa, madonna, raga, ok? Qui, chiudiamo, grazie mille, Minecraft, ma noi non vogliamo andare... No, grazie, noi non vogliamo andare verso di grazie, però comunque... Ok... Ok... Piccola galleria... Che vedete, poi troviamo anche qualcosa, non il tetto... Ok... Ok... Vabbè, però un po' di torci servono lo stesso, ma... No, un po' di meno, sì, se no... Ok... Qui... Mi immagino, troviamo il ferro, alla fine, quando è già rotto il piccone, tipo... si rompe adesso troviamo il ferro siamo fregati qui sotto c'era del ferro 25 un po poco ma vabbè almeno oggi la sfortuna non è dalla nostra parte passiamo fuori un po' un altro no pazienza ok vai finiamo questo piccone poi chiudiamo il figlio vediamo cosa troviamo va bene cobblestone normale non quanto come in java perché in java ragazzi dovete vedere quanto quanta cobblestone mi fate solo in una scavata di piccoli in pietra lì c'è da divertirsi ma va va bene su bedrock non è nemmeno così male nulla? sicuri? va bene non importa allora torniamo su chiudiamo qui e guardiamoci che è qualcosa qua guardiamo guardiamo prendiamo l'altro vabbè ragazzi voglio vedere cos'è che quindi vabbè vogliamo anche l'altro non è può anche andare bene che ragazzi non è che è notte no ah ok torniamo a casa nostra che facciamo meglio così se non moriamo a con 25 ci facciamo solamente un'armatura intera quindi ragazzi non siamo stati così fortunati ma nemmeno tanto sfortunati per cobblestone e e carbone beh no non male non male ok possiamo mettere a cuocere il ferro ci sono messi bene dai vediamo eh vabbè ho sbagliato facciamo così vai facciamo tipo 13 e sotto 12 se ne abbiano ok no aspettate allora faccio così ma che faccio qui ok ok vai così può andare bene vai troppiamo il carbone tutta la complicità che è bella è nulla ok vai vai tanto ho sentito una pecora che ha preso dell'erba non dissociatevi eh ok allora facciamoci intanto un 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 corpetto una corazza e boh mh vabbè noi lasciamo cuocere intanto il la il ferro noi ci salutiamo iscrivetevi al canale lasciate un bel like e come sempre ci vediamo ad un prossimo video arrivederci a tutti